Sarà un Natale accogliente, quindi un Natale in famiglia, nostro perché è della nostra comunità, ci saranno tantissimi eventi all'insegno dell'accoglienza dei gabicesi e nonno, inizieremo il 3 dicembre per andare avanti fino al 7 gennaio. Ci saranno tante iniziative sia in centro, in piazza Municipio, in piazza Matteotti, ma anche abbiamo voluto dare un segno anche di accoglienza nelle altre parti della città. Ringrazio naturalmente i nostri sponsor, i miei sponsor Riviera Banca in particolare ed SGR che ci sostiene durante le vacanze natalizie, le associazioni di volontariato perché veramente il loro contributo è fondamentale anche per dare un supporto a tutte le iniziative a rendere più caloroso e più caldo e accogliente il nostro Natale. Tantissime iniziative per i bambini perché durante il periodo invernale ci piace molto dedicarci alle nostre famiglie con cura, amore e dedizione. Quindi ci sarà ovviamente l'arrivo di Babbo Natale che verrà a Gabice per raccogliere le letterine, ci sarà il terreno di Babbo Natale che quindi andrà poi nelle piazze dei quartieri a consegnare i doni, arriverà alla Befana, un altro appuntamento della tradizione gabicesa, Gabicemonte all'interno del presepe vivente che verrà realizzato nelle giornate del 26 dicembre e 6 gennaio, e quindi il 6 gennaio nella giornata dell'Epifania arriverà la Befana a portare i doni, quindi i bambini sicuramente avranno tante possibilità per vivere nei nostri momenti di festa, il centro per le famiglie tornerà aperto, quindi sarà un bel concerto di Natale l'8 dicembre che verrà presentato al Cinema Teatro Astra, nella stessa location il 12 dicembre ospitiamo Danilo Rea che è un artista internazionale di fama veramente, è un pianista che porterà uno spettacolo jazz di rilievo nazionale sul nostro territorio e il 17 dicembre invece ci sarà uno spettacolo, una commedia teatrale organizzata dal gruppo albergatore di molti servizi. In realtà sì, la progettazione è stata incentrata sul fatto che tutte le associazioni hanno organizzato questo Natale, proprio per questo il titolo è Il Nostro Natale e per questo motivo siamo in questo luogo speciale nonché rappresentato nel manifesto che è appunto la casa nuova del Digabizze che è il Mississippi. Queste sono le icone in realtà che sono state progettate dal 2019 con il tutto il nostro city brand e sul retro abbiamo proprio creato questa pallina di Natale, simbolo del Natale creato appunto tra le case e le persone che abitano questo luogo.